Buongiorno a tutti, questa è la conferenza stampa con Mr. Baroni, c'è la prima domanda di Elio Donno del Corriere dello Sport, prego Elio. Buongiorno a tutti, due settimane di ritiro, una gara amichevole conclusa con una formazione di Serie B positivamente, a una settimana dalla Coppa Italia e a due dal campionato. Il direttore sportivo ha detto che c'è qualche piccolo idocco da portare, ma sul piano generale il tuo giudizio, ti tieni soddisfatto, un bilancio, le prospettive, dove hai colto le cose più belle e dove c'è da migliorare qualcosa? Io allora, intanto già a fine gara avevo ringraziato la squadra per l'impegno, per la voglia con cui ho trovato questo gruppo dal punto di vista del lavoro, c'è applicazione e quindi quando ci sono queste componenti è chiaro che il nostro lavoro è facilitato da questo punto di vista, è chiaro che ci sono tante cose da lavorare, tante situazioni da mettere dentro, ma questo non mi spaventa mai, figuriamoci qua dove comunque c'è un organico giovane ma anche con un tasso tecnico di rilievo importante, quindi ho sottolineato appunto in quella gara che comunque c'è stata una predisposizione, una voglia a tenere il ritmo, a essere aggressivi, a cercare di fare le prime corse, spendere le prime corse in avanti, più che indietro e questo la squadra tra attimo lo ha ricercato e intanto in questo momento a me mi serve anche vedere questo, la ricerca proprio dall'aspetto mentale delle cose che io chiedo e delle cose che noi proviamo. Poi è chiaro che un po' di tempo ci serve ma io non sono abituato, non mi piacciono gli alibi del tempo perché non dobbiamo aspettare il tempo, anzi gli dobbiamo correre dietro e quindi sono convinto che queste due settimane, anche se sembrano poche, ma invece saranno utili per permettere ancora del lavoro. Adesso andiamo a affrontare una partita, un bel test, sono contento che c'è questa gara perché giochiamo contro una squadra importante, una squadra fisica, una squadra che ha tanto dinamismo e quindi sono molto curioso e non vedo l'ora di misurarci contro questa squadra. Pasquale Marzotto della Gazzetta dello Sport. Buongiorno mister. Buongiorno Pasquale. Per quanto riguarda l'organico, è vera, sì, rimane, no o si vedrà? No, ora mi dispiace che è andata tanta attenzione, no, questo ragazzo deve stare sereno, sta lavorando molto bene, io sono attento a cogliere tutti i piccoli particolari, mi ha dato grande disponibilità in un ruolo che lui forse interpretava prima, quando era nella sua nazione, poi piano piano l'ha un pochettino perso e ci sono gli ingredienti e quindi adesso lo verifichiamo, lo sto facendo giocare in queste partite proprio per testarlo, nella stessa maniera non gli voglio mettere questa responsabilità di dover dimostrare a tutti i costi, mi servono dei segnali, mi guardando e quindi vediamo se era un giocatore che era in uscita, vediamo adesso se magari possiamo fare delle riflessioni positive su di lui, io penso di sì. Al momento nei ruoli mancano solo gli esterni offensivi di destra, il direttore ha detto che arriveranno, quanto potranno incidere e quanto esalteranno la manovra offensiva? Purtroppo sono, no purtroppo, sono giocatori determinanti, sono determinanti perché comunque quando crei un modello di gioco dove richiedi l'ampiezza, dove vuoi lavorare sugli esterni poi diventano giocatori importanti, lo sappiamo, siamo attenti a quello che può avvenire sul mercato, è chiaro che non è un momento facile per nessuno, basta vedere un attimino voi che scrivete lo verificate, quindi all'interno di queste difficoltà, di queste problematiche cerchiamo di individuare appunto i soggetti giusti che ci possono dare una mano importante perché sono giocatori determinanti. Gabriele De Giorgi di Lecce Prima Mister, buongiorno, una curiosità rispetto all'amichevole di domani, la sua gestione sarà improntata più all'assetto gara ufficiale perché fra una settimana c'è Coppa Italia e fra due inizia il campionato oppure come le precedenti amichevoli con un turnover piuttosto ampio fra primo e secondo tempo? No, allora intanto io ci tengo a precisare una cosa, per me non esistono amichevoli ma nemmeno nell'allenamento perché abbiamo, come ho detto prima, la nostra testa deve essere sempre una testa competitiva, una testa dove vogliamo portarci a casa qualcosa, quindi è chiaro che in questa gara ci sarà qualche giocatore che voglio vedere, ci sarà un pochettino magari di spazio in più rispetto a qualcuno che ha fatto meno, però ripeto, dobbiamo mentalizzarci da questo punto di vista, quindi io guardo sempre a chi c'è, non a chi non c'è e chi va in campo ha una chance importante per dimostrare a me, per dimostrare alla squadra perché poi è un insieme di cose che si deve legare, che è un giocatore che mi piace veramente, lo dico, lo dico ai miei calciatori, lo ripeterò sempre, mi piace pensare non più ai 12, 11, 14 titolari, dobbiamo avere una rosa veramente di tutti i titolari, tutti pronti e questo per me è un dogma che continuo a spendere nel gruppo perché è fondamentale. Piero Andrea Casto, Salento Live 24. Buongiorno mister, curiosità su due giocatori che le ha schierato in maniera diversa almeno rispetto, e parlo di Hulman, che eravamo abituati a vederlo più davanti alla difesa, con lei gioca qualche metro più avanti, una valutazione su questo nuovo ruolo del ragazzo danese, e poi Ergason che, ha detto anche il direttore Corvino, nasce come centrocampista offensivo, lei l'ha schierato più volte invece sulle corsie esterne offensive. Sì, allora, intanto questi ragazzi, parto da Hulman, che è un giocatore che è giovane, che ha talento, ha dimostrato già lo scorso campionato, devono abituarsi ad aprire anche la frontiera della testa, perché io chiaramente non metterò mai un giocatore in un ruolo che non può fare, ma mi piace anche pensare che dei giocatori possono creare un bagaglio esperienziale anche in situazioni diverse. Tra i due vedo Alex più mediano, più play, un giocatore che può, e quindi credo che poter pensare anche piano piano a lavorare su Morten come interno, secondo me può diventare una risorsa importante per la squadra, ma principalmente per la crescita del giocatore anche. Per quanto riguarda invece Thor, è un ragazzo che lo stiamo scoprendo, ha delle qualità, ha una gamba importante, è giovanissimo, ha un destro veramente, quando calcia in porta fa male, è un giocatore che però sono ragazzi che dobbiamo dargli il tempo di entrare, perché è chiaro che subiscono una violenza psicologica, perché è un calcio completamente diverso, gli dai tante informazioni, la testa si riempie, intanto cambia i ritmi, cambia dal punto di vista dell'aspetto tattico, perché loro comunque anche nella fase di non possesso hanno un pensiero completamente diverso da noi, quindi è un insieme che spesso, questo sono abituato perché me lo porto dietro un po' dal settore giovanile, a volte quando prendi questi ragazzi che arrivano da realtà diverse, subiscono un trauma e quindi nel primo periodo dobbiamo proprio dargli tempo di metabolizzare questo e quindi lo faremo e in questo momento ho utilizzato il ragazzo da esterno proprio perché volevo vedere anche le sue attitudini e lo può fare, lo può fare perché comunque ha una partenza, ha una corsa nei primi 20 metri importante, quindi si torna un po' al discorso e intanto è anche lì un'esperienza che lui può fare, anche se poi secondo me forse l'interno può essere il suo ruolo. Roberto Schipa, TG Nord Salento. Allora, non le faccio una domanda tecnica, una curiosità alla quale credo che siano interessati anche i nostri elettori e lei ha conosciuto tantissime realtà calcistiche sia da calciatore che da allenatore, anche molto importanti alcune di queste, Juventus, Napoli, è stato anche a Lecce anni fa, adesso è a Lecce con questa nuova società da due mesi circa, ha trovato qualcosa di speciale veramente che è difficile da trovare dalle altre parti, noi sappiamo che sia il Presidente che Pantaleo Corvino non lasciano nulla al caso e che sono molto ma molto scrupolosi, qualcosa che non riesci a trovare facilmente dalle altre parti. No, ho trovato un gruppo di lavoro che porta avanti delle idee, c'è molta forza all'interno su quello che poi sono le linee guida, questa è una cosa importante, veramente sono rimasto sorpreso da tutte le maestranze, tutte le persone che girano intorno alla squadra, sono persone di altissimo livello professionale dove c'è una componente che secondo me poi fa la differenza, che è la passione, la passione per questa maglia e quindi non sentono sacrificio, fanno le cose le fanno con amore e con voglia e questo secondo me perlomeno io ho una percezione che ho e questo mi fa piacere perché se viene trasferito ai ragazzi può diventare un valore aggiunto. Nello stesso tempo poi starà a me far ricordare a tutti i ragazzi e questo ci metterò tutto il mio impegno possibile che non dobbiamo mai dare per scontato niente, anzi quando si trova questi ambienti dove ci fanno lavorare bene dovrò essere io a richiamare molto appunto che certe cose non dobbiamo darle per scontato perché poi nella vita, come nella vita anche calcistica, specialmente calcistica quando ti senti un pochettino così diciamo usiamo la parola ti adagi sul bello, sul benessere poi lasci qualcosa e questo non deve mai avvenire perché noi dobbiamo veramente avere questo spirito proprio di appartenenza che secondo me poi ora e il calcio ogni anno, ogni momento anche agli europei vediamo queste situazioni qua, poi alla fine questo aspetto qua fa la differenza. E l'ultima domanda a mister Carmen Tommasi di Telerama. Mister buongiorno, io vorrei sapere quanto è soddisfatto finora del lavoro fatto sulla fase difensiva e se i più anziani, i giocatori più esperti la stanno aiutando a far integrare i nuovi arrivati. No no ma questo sì, sì perché ripeto che c'è un gruppo di lavoro che lavora con grande professionalità, io non sono abituato, perdonatemi, io non credo più che si deve parlare di difensori o di fase difensiva legata alla difesa, per me nella squadra è un insieme, è un insieme nel momento in cui si perde palla e a Vicenza ho cercato di farlo capire, i nostri attaccanti se vogliono che la squadra rimanga vicino alla porta avversaria devono essere i primi, i primi a correre verso la palla, a ricercare una riconquista, non si può pensare, questo calcio non ti permette più di pensare che la palla dell'avversario è un problema della difesa, è un problema di tutti e dobbiamo adoperarci immediatamente per riconquistare questa palla, quindi questo è uno degli aspetti che ho visto, che sto cercando di portare in maniera forte ma che ho visto già, anche se a sprazzi, ripeto perché è chiaro, però ho visto questo da parte della squadra, io voglio una squadra dinamica, non voglio una squadra che difenda di posizione ma voglio una squadra che vada ad aggredire, vada ad aggredire forte, accetti l'uno contro uno e all'interno di questo crea poco spazio di pensiero e di azione all'avversario.